...durante l'attacco la cittadina di Triora West viene reprisi dal coraggioso Serifo da Pulini e dai valerosi abitanti durante la sanatoria Moris di fatto e oltre il difensore del villaggio viene gravemente serifo mentre John e David Pagli si vengono arrestati gli altri due satelli esistono a cura dominare a favore stati tenteranno di liberare i loro convocchi o li abbandoneranno al loro vaccino lo scopriremo stasera la rivista del villaggio di Ressal ... 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